Dal 3 al 9 giugno sarà la settimana da capitale al quadrato di Isola del Piano con il progetto 50x50 di Pesaro 2024. Il titolo del programma cambia una lettera al riconoscimento ricevuto da Pesaro e trasforma la cultura in cultura, che sarà il tema centrale di queste sette giorni, mentre per tutto l'anno sarà la figura, la storia e il racconto della donna rurale ad essere il centro intorno al quale ruoteranno le iniziative della comune. Ma è un discorso che nasce all'inizio dell'anno, cioè il titolo che abbiamo noi per questa settimana è la cultura della cultura, che è un input che mi ha dato Liss Marsili, che mi ha detto voi a Isola del Piano avete la cultura e avete anche la cultura, allora mi è venuto in mente di dire la cultura della cultura. Però noi eravamo partiti dall'inizio dell'anno, noi abbiamo iniziato dall'8 marzo perché dedichiamo tutto il 2024 alla donna rurale. Delle giovani che ritornano a fare delle imprenditrici nel mondo agricolo, anche con successo. Per cui avremo tutta una serie di eventi durante l'anno proprio dedicati alla donna rurale. Il 15 ottobre, quanto è l'anno internazionale della donna rurale, sto lavorando per dare la cittadinanza onoraria a Olga Karaz, questa giovane bielorussa esiliata, torturata e imprigionata da Lukashenko, che è stata premiata quest'anno con il premio Alex Langer alla Camera. Poi dopo cercherò di far venire luglio-agosto Don Ciotti, che parlerà della lotta delle donne rurali contro la mafia, la fattoria della legalità. Avremo anche quest'estate un campo di estate liberi, per cui è un fermento di cose. Per quanto riguarda la settimana della cultura, avremo Vandana Shiva, che è una vita che la inseguo, con lei ho fatto anche delle marci contro gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, eccetera, eccetera. Poi avremo Franco Arminio, che sarà sia a Fonte Corniale che a Isola del Piano. A Fonte Corniale partiamo con un gruppo di giovani, un trio di caserza, anzi di Santa Maria Capovetere, se no si arrabbiano, di Santa Maria Capovetere, che fanno pizzi, cataranta, che si chiamano i vagatrio. Ci sarà Franco Arminio che leggerà delle poesie e il tema che abbiamo sviluppato era una passeggiata di resistenza e legalità. Alla sera poi sarà a Isola, che leggerà delle poesie, racconterà delle storie dell'Isola del Piano. E concludiamo domenica, questi sono i tre eventi più importanti per me, concludiamo domenica con l'Orchestra Olimpia che a Montebello, al convento di Montebello, dove è nata la cooperativa biologica Giro Romoni, farà un concerto dedicato proprio alla donna contadina. Sette giorni che sicuramente non termineranno domenica 9 giugno. Ma avranno un respiro tanto più ampio, sicuramente per tutto il 2024 e magari anche oltre. Anche oltre perché? Perché c'è stato un lavoro in mane, un gruppo di lavoro nato più o meno spontaneamente lo scorso gennaio, composto principalmente da donne, da ragazze, da giovani madri, studentesse e quant'altro, che hanno dato il tema alla donna rurale. La donna rurale è una sfida anche ai nostri tempi, per riscoprire le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, anche attraverso il ruolo della donna. Di conseguenza, sette giorni ad Isola del Piano, che appunto non termineranno il 9 giugno, ma avranno un ampio respiro per tutto il 2024. Il piccolo paese sicuramente ha tutti gli svantaggi del mondo, ma riesce ad offrire quelle piccole cose che sul lungo periodo sono le vere cose che contano, sono quello, diciamo, il quid, il valore in più che può aggiungere alla vita quotidiana frenetica della città.